Trissino, perdita di gas in via Trecolli. È da poco passata a luna del pomeriggio quando il sistema valvolare di un bombolone interrato da 1750 litri di GPL risulta danneggiato a causa di un incendio di sterpaglia. I pompieri accorrono da Vicenza con un'autopompa e un'autobotte. Costatato che però non è possibile intercettare la perdita, utilizzano acqua nebulizzata sulla fuoriuscita per disperdere il gas. Viene allertato il nucleo regionale di Mestre specializzato in nucleare, biologico, chimico e radiologico. Viene predisposta una tubazione e bruciato in torcia il gas. Così è stata rimessa in sicurezza la zona.